La scena del crimine Lei ha un mandato, signore? Chi vi ha assunto? Temo di non poterglielo dire, signore Senta, voi non entrarete, quindi marcia indietro Signore, può dire al suo amico di togliere il dito dal grilletto e mettere l'arma in sicurezza O saranno dolori quando gli uscirà dal culo? Io ti faccio esplodere, bellezza È un po' nervosa, quindi è meglio se ascolti me, con attenzione Ora prendi la pistola, togli il caricatore e arretra il carrello per svuotarla Fallo, forza, piano Il ragazzo ha qualcos'altro? No, solo il fucile Solo il fucile, ok, sì Stronzo Se non altro tu hai un'aria professionale Si non è un'aria professionale